Scaionato in tre giorni la diciassettesima giornata del girone di ritorno del campionato di Serie A che comincia sabato alle 20.45 con l'anticipo allo stadio San Siro tra Inter ed Udinese. I friulani sono ritornati in piena corsa per la salvezza dopo il successo interno contro la Fiorentina per 2-1 mentre l'Inter deve subito riscattarsi dopo la sconfitta subita a Marassi ad opera del Genoa. Le attese sfide per lo scudetto avranno luogo tra domenica e lunedì con la Juventus impegnata alle Franchi di Firenze in serata alle 20.45 contro la Fiorentina mentre alle 15 del pomeriggio di lunedì la Roma è attesa al confronto interno all'Olimpico contro il Napoli che continua a crederci tra le altre gare della giornata di domenica da non dimenticare le sfide salvezza Positone Palermo, Bologna, Genoa e Atalanta Verona mentre la seconda squadra di Verona appunto in Serie B virtualmente ma matematicamente potrebbe arrivare in caso di nuova sconfitta ad opera del Milan completano il quadro Carpi Empoli e Sabloria Lazio